siamo al pop corn di marghera per la finale della red bull tour bus chiave in mano un contest che ha visto partecipare più di 150 band provenienti da tutta la penisola per aggiudicarsi come premio mini tour di tre date a bordo della red bull tour bus un mezzo speciale creato apposta per musicisti attrezzato per viaggiare comodamente e all'occasione si trasforma in un vero e proprio palco dotato di tutte le specifiche tecniche per un'apparizione live ci siamo il quai di roma siamo un gruppo con influenze principalmente garage punk ma ci piace riferirci qua perché vediamo la musica come un linguaggio universale sempre preferito ascoltare i gruppi emergenti piuttosto i gruppi affermati è una roba da sempre cioè preferisco vedere il gruppetto che crede in quello che fa piuttosto il gruppo affermato che ha già visto dieci mila volte sì 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 si limita a fare il compitino noi siamo il rossando da prezzo e facciamo rock elettronico cerchiamo diciamo di mischiare la musica rock con l'elettronica il live è sempre una parte fondamentale una grande band una band che ha un grande live appunto bene di conseguenza questo concorso di red bull rispetto ad altri concorsi si offre come premio finale anziché un premio economico una registrazione cosa che si vede anche una cosa anni 90 anni 0 e tutto quanto da subito la possibilità di un mini tour siamo in una follia veniamo da milano io sono stefano voce stefano basso stefano chitarra stefano batteria stefano no non è vero siamo qua a suonare super rock speriamo di essere così contenti tra un due tre ore dopo la premiazione in una prima fase le band sono state selezionate votate direttamente da me successivamente delle 30 più votate una giuria di qualità ha decretato le tre finaliste più precisamente nerd follia resando e milk white vi ricordo che al termine dell'esibizione il linea 77 ci omageranno con alcuni brani estratti direttamente dalla loro ultima fatica 10 registrato dal red bull studio di los angeles benvenuti al pop com di marghera siamo qui per una serata speciale siamo qui per la finale del red bull tour bus chiave in mano i Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!